A Rizzo, capitale europea della kickboxing, per una notte, sabato, alcuni tra i più forti atleti di questo sport si sfideranno al teatro Tenda in occasione di un evento che, patrocinato dal comune di Rizzo, si concluderà con l'incontro per il titolo europeo che vedrà sfidarsi Nicola Sokol Iachini e Marian Serban. Il protagonista, Iachini, è albanese di nascita, marittino di adozione, negli ultimi anni ha già vinto due cinture europee e sta lavorando per affermare la kickboxing sul territorio provinciale. La riunione si aprirà alle 21 con sei incontri tra professionisti che vedranno per protagonisti alcuni atleti del team Iachini, come Paolo Albano, Silvio Coccos, Marius Comanesco, Cristian Iachini, Lorenzo Mattani e Mehdi Ragui. La conclusione sarà infine affidata al combattimento per il titolo europeo della categoria 76 kg in cui Iachini proverà a difendere la cintura vinta nel 2015 proprio contro Serban. I due sono tra i massimi esponenti della kickboxing continentale e si ritroveranno sul ring di Arezzo per uno spettacolare incontro combattuto sulle sette riprese. Per Iachini, allenato dallo storico maestro Herman Di Mauro, si tratta di una serata dalle forti emozioni perché oltre a combattere ad Arezzo sarà l'ultimo incontro della sua carriera sportiva dal momento che poi si dedicherà esclusivamente all'insegnamento della kickboxing e degli altri sport da combattimento per sviluppare la realtà locale. Forte di 20 successi e di un pareggio su 21 incontri disputati, l'obiettivo sarà quello di ritirarsi da imbattuto e di chiudere facendo festa nella sua città.